Musica Musica Cari amici, ben ritrovati ad una nuova puntata delle Regole di Tozzi Geo Paleo Dive Show. Benvenuto Claudio Tozzi. Ciao Francesca, salve a tutti. Sappiamo bene che una delle regole base della Geo Paleo Diet è l'eliminazione dei latticini. Questa notizia però non piace alla medicina ufficiale, infatti dicono che non ci sono studi. O dobbiamo dire non piaceva. Non piaceva perché oggi questa puntata è considerata una bomba atomica, che è una cosa che aspettavi da tempo perché una delle riviste scientifiche più importanti al mondo, che è la New England Journal of Medicine, ha pubblicato uno studio che parla proprio dei latticini. Esattamente. Vogliamo scoprirla? Allora, come hai detto tu, è la rivista, forse la rivista, o comunque fra le prime cinque riviste scientifiche più importanti al mondo. E è stata, questa ricerca è stata pubblicata a marzo del 2020 e è anche uno dei motivi perché non ha fatto questo grande successo, perché poi la pandemia Covid ha coperto tutto. Perché è importante questo studio? Che non abbiamo detto il titolo, il titolo è esattamente Latte e Salute. Questo studio è fondamentale, secondo il sottoscritto, perché per la prima volta i latticini vengono contestati. E la stessa medicina ufficiale che comincia a prendere le distanze dalle proprie linee guida, che ci ha raccontato per decenni immutabili, il latte fa bene, il latte fa bene per il calcio, il latte fa bene per tutto. Questo studio diventa una pietra miliare della controinformazione che viene dalla stessa medicina ufficiale, dalla stessa scienza. Secondo me è fondamentale parlarne. Bene Claudio, prima di entrare nei dettagli di una notizia così importante, vogliamo spiegare bene ai nostri telespettatori che cos'è la peer review e l'impact factor? Sì, dobbiamo spiegarlo. È una cosa un po' tecnica. Francamente me ne sono anche altamente fregato per tanti anni, però siccome non ce la faccio più di accuse assurde, tipo a tutti parli di studi su riviste scientifiche di basso livello, riviste che non hanno impatto di qualità altissimo, in realtà non è vero, perché quando fanno questa critica sulle riviste che io faccio vedere, in realtà sono sbagliate, in questo caso è totalmente sbagliate, perché? Spieghiamo intanto che cos'è l'impact factor. L'impact factor è un punteggio di qualità che viene dato da un organismo terzo a tutte le riviste scientifiche mondiali. Ovviamente più il punteggio è alto, più quella rivista ha prestigio. Prende credibilità. Prende credibilità. Ovviamente se tu, quello che vogliono dire, se tu dici che, ne so, che i cerali fanno male e viene pubblicato uno studio su una rivista che è un impact factor basso, non conta, questo vogliono dire. Che avrebbe pure un senso, però questa volta il senso non ce l'ha, diceva la canzone, perché il journal New England, Journal of Medicine, ha veramente il più alto fattore d'impatto al mondo. C'è la rivista più prestigiosa al mondo insieme a The Lancet, anzi in realtà c'è la superiore a The Lancet, e altre riviste scientifiche. Quindi di che cosa stiamo parlando? Questa rivista è la più importante al mondo e ha pubblicato uno studio critico contro il latte. P-review vuol dire che lo studio, la ricerca, è stata controllata da un organismo terzi per vedere la congruità dei dati delle ricerche di tutto, insomma, per cercare di capire se lo studio non si è inventato qualche dato. Questo è alto impact factor P-review. Cosa ci dice lo studio in relazione alla crescita e allo sviluppo dell'essere umano? Allora, noi ci hanno raccontato che, al di là ovviamente, a parte che hanno provato anche a dire che il latte materno non andava bene, ma andava bene soltanto il latte artificiale negli anni 80 e 90. Tolto questa cosa qua, ci hanno sempre detto che al posto del latte, se è al posto del latte materno, se la donna non è latte, allora si può prendere tranquillamente il latte vaccino, cioè il latte di mucca. Però io, per evitare i fraintendimenti, ogni volta accusa, no, perché estrapoli, manipoli, quello e quell'altro, io leggerò letteralmente lo studio cosa dice. Crescita e sviluppo. Se il latte materno, il latte vaccino, come base del latte artificiale per bambini d'età inferiore a un anno d'età, può aggiungere un importante valore nutritivo durante la prima infanzia. Tuttavia, è possibile ottenere una crescita, uno sviluppo normale durante l'infanzia, senza prodotti lattiero-caseari. Se si presta attenzione alla qualità della dieta, compreso l'uso di vitamina B12 supplementare, nelle diete che includono pochi prodotti animali e vitamina D per compensare la bassa esposizione al sole. Vi ricorda qualcosa? Parentesi questa mia, eh? Anche con una tradizione generale adeguata, il consumo di latte aumenta la crescita all'ungiludinale e all'altezza raggiunta. Cioè aumenta la, più latte bevi mediamente, più se è alto. Non è chiaro che se questo effetto di promozione della crescita sia causato da amminoacidi specifici, ormoni anabolici o altri fattori. Il latte vaccino, che ricordo il latte vaccino sarebbe quello di mucca, contiene quantità sostanziali di amminoacidi a catena ramificata, cioè leucina, isoleucina e valina, che sono fondamentali per la qualità delle proteine. Il consumo di questi amminoacidi da parte dell'uomo aumenta le concentrazioni plasmatiche di IGF-1, insulin lack factor, growth factor, che è un ormone che media l'azione dell'ormone della crescita. E l'alucina attiva specificamente la via della rapapicina MTOR, bersaglio dei mammiferi. Sarebbe, lo spieghiamo perché ovviamente è molto tecnico, l'MTOR è un gene che controlla la crescita muscolare e l'anabolismo, ok? che promuove la replicazione cellulare e inibisce l'apoptosi, cioè la morte cellulare. In pratica, il corpo rischia di meno di andare anche in tumore. Tuttavia, le conseguenze sulla salute di una crescita accelerata di una maggiore altezza degli adulti sono complesse. L'alta statura è associata a minori rischi di malattie cardiovascolari, ma ha maggiori rischi di molti tumori, fratture dell'anca e emboli polmonari. Cosa vuol dire, Francesca? Vuol dire che, anche se il latte, ipotesi, non faccia nulla, in realtà fa aumentare l'altezza, ma l'altezza fa aumentare le patologie già di per sé. Incredibile. E tutta questa storia dei latticini, unita al calcio, quindi alle ossa, quindi paura di fratture e osse, come la mettiamo? Leggo testualmente. Un motivo fondamentale per un elevato consumo di latte per tutta la vita è stato quello di soddisfare i requisiti di calcio per la salute delle ossa. Paradossalmente, i paesi con le più alte assenzioni di latte e calcio tendono ad avere più alti tassi di fratture dell'anca. Prendete, più in un paese c'è la percentuale di persone che beve latte e latticini, più c'è frattura dell'anca. Sebbene questa correlazione possa essere non causale, cioè, loro dicono, succede ma non è detto che sia correlato al latte e al calcio, e potrebbe essere dovuto a fattori come lo stato di vitamina D e l'etnia, loro dicono, può essere il fatto che in quella popolazione mangiano calcio però hanno poca vitamina D e poi dipende anche dall'eltria, quindi dalla mappatura genetica che hanno che può essere portata più o meno alla frattura dell'anca. Il basso consumo delle latticini è chiaramente compatibile con bassi tassi di frattura dell'anca. In pratica è esattamente il contrario, Francesca. Nelle popolazioni che bevono più latte sono quelle che hanno più fratture e quelle che non lo bevono le fratture non ce l'hanno. La base per la raccomandazione statunitense, perché ovviamente l'articolo americano, per il consumo di latte deriva da studi che valutano l'equilibrio tra assunzione e iscrizione di calcio in soli 155 adulti, in cui l'assunzione di calcio stimata necessaria per mantenere l'equilibrio era di 741 mg al giorno. Oltre alle piccole dimensioni, quello che vuole dire che è uno studio troppo piccolo per essere credibile, si sono basati su uno studio troppo piccolo. Oltre alle piccole dimensioni, questi studi sull'equilibrio hanno altri gravi limiti, tra cui una breve durata, da 2-3 settimane, e un'assunzione abituata allevata di calcio. Al contrario, l'equilibrio stimato è stato raggiunto a circa 200 mg di calcio alimentare al giorno, tra gli uomini peruviani con un basso apporto abituale di calcio. Un risultato coerente con la capacità del corpo di sovrarregolare notevolmente l'assorbimento quando il calcio è da letta e del basso. Cosa vuol dire? Il nostro corpo, se il calcio assunto è basso, in realtà lo sovrarregola, cioè lo regola, lo assorbi di più, quindi non c'è problema. Parentesi, ma di che stiamo parlando? Cioè fino adesso ci hanno detto che più calcio prendevi più rafforzava le ossa e se prendevi poco calcio si rompevano. E scopriamo sulla rivista più importante del mondo, col più punteggio di qualità più alto al mondo, ci dicono esattamente il contrario. No un po' il contrario, esattamente il contrario. Claudio, ti fermo un attimo, ci fermiamo qualche minuto e diamo dei consigli per gli amici a casa. Restate con noi. Grazie a tutti. Cari amici, bentornati in studio. Oggi puntata sull'analisi di uno studio scientifico di una delle più importanti riviste scientifiche americane, New England Journal of Medicine. Claudio, parlavamo dello studio, parlavamo del rapporto tra l'assunzione di poco latte che non va a incidere assolutamente sui rischi di fratture e mancanza di salute ossa. Anzi, paradossalmente forse è il contrario. Esattamente il contrario. Cioè, quello che ci dice questo studio è che nelle popolazioni che bevono più latte e quindi assumono più calcio c'è più fratture. Che è esattamente il contrario di quello che ci hanno detto negli ultimi 50 anni. concludiamo questo episodio di salute ossa a rischio di fratture e latticini e poi andiamo avanti con l'argomento. Sì, completiamo questa parte fondamentale. Continuo. Poché il latte aumenta l'altezza raggiunta e l'altezza più alta è fortemente correlata alla frattura dell'anca di altre ossa, ovviamente è stato esaminato l'elevato consumo di latte durante l'adolescenza in relazione al rischio di fratture dell'anca nell'età adulta in due grandi corti. I corti in termine scientifico sono delle aggregazioni di persone omogenee. Tra gli uomini la sezione di latte durante l'adolescenza era associata a un rischio maggiore del 9% di fratture dell'anca più tardi nella vita per ogni bicchiere di più consumato al giorno. Ogni volta che da piccoli da adolescenti beviamo un bicchiere di latte aggiungiamo un 9% del problema più di essere fratturati all'anca da adulti. Nessuna associazione con il rischio di frattura all'anca è stata osservata tra le donne. Pertanto i dati esistenti non supportano un'assunzione elevata di latte durante l'adolescenza per la prevenzione delle fratture più avanti nella vita e suggeriscono che tale assunzione possono contribuire all'elevata l'incidenza di fratture nei paesi con il maggior consumo di latte. Eh ma con noi siamo strani diciamo cose assurde. Andiamo avanti. Claudio vediamo adesso il rapporto tra latticini peso corporeo e obesità secondo lo studio. Leggo testualmente sebbene il latte sia stato ampiamente promosso come benefico per il controllo del peso in una meta-analisi di 29 studi randomizzati spiego perché giustamente non tutti sanno questi termini meta-analisi vuol dire che tu fai prendi un gruppo di studi dello stesso argomento e ovviamente fa la media dei dati e randomizzati vuol dire che sono fatti doppio cieco randomizzati vuol dire che né il ricercatore né i soggetti sanno se stavano assumendo un dato farmaco o un dato prodotto randomizzati che ovviamente a un certo punto dello studio i due placebo e principio antivo vengono invertiti in modo da avere una maggiore omogeneità del dato non sono stati osservati effetti complessivi del latte e di altri latticini sul peso corporeo il latte non funziona nemmeno per dimagrire come ci hanno sempre detto tra gli uomini e donne in tre grandi corti ricordiamo le corti sono questi gruppi omogenei di persone i cambiamenti del consumo di latte intero latte magro e formaggio non avevano chiare associazioni col cambiamento di peso mentre il consumo di yogurt era associato a un minor aumento di peso essendo una delle uniche fonti di probiotici comunemente consumate nelle diete occidentali moderne i latticini appena fermentati come lo yogurt possono proteggere dall'obesità e conferire altri benefici per la salute derivanti dai loro effetti sul microbioma intestinale tuttavia non si può scludere di confondere le stili di vita generalmente più sane delle persone che consumano yogurt cosa vuol dire? loro hanno trovato che lo yogurt effettivamente fa un po' meglio fa più bene del latte ma non è detto che quelle persone che bevano yogurt in realtà mangiano meglio quindi non sai se il beneficio sia dovuto dallo yogurt allo stile di vita gli studi sul consumo di latte sul peso corporeo nei bambini sono pochi e sono soggetti a confusione casualità inversa su 12.829 adolescenti seguiti per tre anni la stanzione di latte magra è stata positivamente associata all'indice di massa corporea ma la stanzione di latte intero e grassa da latte non lo erano cioè se i bambini bevano il latte magro ingrassavano se bevano il latte intero in realtà non avevano problemi anche qui ci dicono che i grassi ingrassano e qui è successo il contrario l'aumento di peso associato al latte magro è dovuto a un maggiore apparto energetico allo stesso modo in tre corti di bambini piccoli il consumo di latte intero o al 2% di grassa era associato a una massa corporea inferiore o un rischio di obesità inferiore rispetto al consumo di latte magro scremato in uno studio non è stata assorbata alcuna associazione col balai fra latte perciò la di grasso corporeo bene latticini pressione sanguigna grassi e malattie cardiovascolari leggo anche qui testualmente Francesca il contenuto di potassio che è un minerale importante per la pressione relativamente alto nel latte ha portato a suggerire che una maggiore assunzione di latte possa ridurre la pressione sanguigna la dieta DASH che sarebbe una dieta che viene consigliata negli Stati Uniti per abbassare la pressione che include i latticini a basso contenuto di grasso riduce la pressione sanguigna ma l'apporto specifico del latte non è in chiaro poiché la dieta è pora di sodio e riccate frutta e verdura allora dicono sì la dieta DASH abbassa la pressione però non sappiamo se è veramente il latte che fa abbassare o i latticini abbassare la pressione certo studi randomizzati sul latte magro hanno mostrato risultati incoerenti per quanto riguarda la riduzione della pressione sanguigna incoerente vuol dire che non sanno se veramente faccio abbassare la pressione è importante notare che l'effetto del latte in tali prove spesso dipende dal confronto fra brevande o alimenti se il latte sostituisce le bevande zuccherate o altri carboidrati raffinati i risultati saranno probabilmente benefici loro dicono quindi se io se prendo del latte al posto di bevande che hanno metà zucchero ovviamente sarà meglio ma non è non è una cosa fondamentale ma risultati potrebbero differire se il latte sostituisce noci legumi o frutta intera anche qui come abbiamo visto e questa è solo una parte dello studio non c'è nessuna certezza che il latte fino adesso serva per la crescita del bambino serva per le ossa e serva per dimagrire andiamo a vedere due patologie molto gravi quindi il rapporto dei latticini con il diabete e successivamente con il cancro l'associazione di prodotti lattiero caseari è stata associata a un rischio modestamente inferiore di diabete tipo 2 in alcuni studi di corte tuttavia in ampie meta analisi ricordiamoci una serie di studi in cui fanno la media il consumo dei latticini non era associato o era soltanto debolmente associato al rischio inferiore anche qui nessuna certezza e inoltre un marker genetico per l'attorenza al lattosio quindi una maggiore assunzione di latte non era colorato a rischio di diabete in un'analisi di sostituzione il rischio di diabete era inferiore col consumo di latte rispetto al consumo di bevande azuccherate o succo di frutto ma maggiore col consumo di latte rispetto al consumo di caffè quindi è ovvio che se tu invece bevande zuccherate e bevi il latte stai meglio ma in realtà è una comparazione con una cosa che non dovresti manco bere quindi è una comparazione sul nulla rapporto tra latticini e allergie e poi eventuali intolleranze alimentari l'allergia alle proteine del latte vaccino può colpire fino al 4% dei neonati quindi 4 neonati su 100 allergie al latte che può causare notevoli problemi nutrizionali rapporti sparsi suggeriscono che il consumo di latte può esacerbare le tendenze atopiche atopiche vuol dire la predisposizione alle allergie conferendo una predisposizione all'asma all'eczema alle allergie alimentari in pratica il bambino se beve latte è predisposto alle allergie di più in un periodo di 10 anni i bambini con una storia familiare di atopia quindi predisposizione alle allergie che sono stati assegnati in modo casuale a ricevere una formula proteica idrolizzata hanno avuto un rischio inferiore di qualsiasi malattia allergica o di eczema rispetto ai bambini che sono stati assegnati in modo casuale a ricevere il latte vaccino cioè se gli danno proteine del latte senza latte stavano meglio in uno studio incrociato in doppio cieco su bambini con interrenanza al latte vaccino 44 bambini su 65 hanno avuto una riduzione dei sintomi inclusa la risoluzione delle ragate anali quando hanno consumato il latte di soia mentre non c'è stata alcuna riduzione dei sintomi tra i bambini del gruppo che ricevono latte di vacca e qui Francesca puntualizzazione il latte di soia fa schifo ma fa comunque meno schifo del latte il che è è tutto dire oltre l'infanzia il latte vaccino può provocare esacerbazioni asmatiche e condizioni correlate inoltre l'interrenanza lattosio limita il consumo di latte in tutto il mondo allora abbiamo dato tantissime informazioni fondamentali per quanto riguarda l'utilizzo di latticini nella nostra vita quotidiana ci fermiamo un attimo diamo alcuni consigli per gli amici a casa restate con noi perché faremo un recap un riassunto sintetico di tutti i punti salienti di questo studio scientifico pubblicato a marzo 2020 restate con noi Geo Paleo Diet mini guida ed integratori il libro di Claudio Tozzi per l'efficienza fisica e mentale in 30 giorni dimagrisci aumenta la concentrazione stimola la memoria e combatti la stanchezza senza contare calorie o quantità abbandonando per sempre e senza rimpianti la dieta mediterranea ossia la più grande disgrazia mai capitata all'umanità Geo Paleo Diet mini guida ed integratori acquistalo su geopaleodieteshop.com cari amici bentornati in studio oggi stiamo approfondendo un importante studio scientifico sul rapporto tra i latticini e tantissime patologie della nostra vita quotidiana dal New England Journal of Medicine l'articolo si chiama Latte e Salute Claudio Tozzi analizziamo prima di fare un recap generale il rapporto tra latticini e il cancro una gravissima patologia leggo testualmente per evitare qualunque qui o no perché tu interpreti perché tu ti porti tutto verso la tua parte questa cosa qua ecco leggo nei confronti internazionali il consumo di prodotti lattiero-gaseari è fortemente correlato ai tassi di cancro al seno cancro alla prostata e altri tumori gli effetti di consumo di latte sull'IGF1 plasmatico che predice un aumento di rischio di cancro alla postrita e al seno il GF1 ricordo è una somatomedina insulina growth factor che è mediata tramite l'insulina e l'ormone della crescita quando questi livelli si alzano sono correlati con il cancro questo per spiegare perché giustamente non è detto che uno lo sappia sempre in studi prospettici di corte il consumo di latte è più costantemente associato a un maggior rischio di cancro alla prostata forme particolarmente aggressive o fatali ma non a un maggiore rischio di cancro al seno l'assunzione totale di latticini è stata associata a un maggior rischio di cancro all'endometrio in particolare tra le donne in posta o meno pausa che non stanno ricevendo terapia ormonale un risultato forse correlato al contenuto di ormoni sessuali dei latticini il consumo di prodotti lattiero caseari o lattosio è stato ipotizzato per aumentare il rischio di cancro ovarico ma nessuna relazione è stata osservata in un'analisi combinata al contrario nelle meta-analisi e nelle analisi aggregate dei dati primari il consumo di latte era inversamente associato a rischio di cancro al colo orretto potenzialmente a causa del suo alto contenuto di calcio un importante limite della letteratura esistente è che quasi tutti gli studi prospettici sono stati avviati tra persone della mezza età o più tardi mentre molti fattori di rischio di cancro operano durante l'infanzia e la prima età adulta in uno studio sulle diete degli adolescenti è stato dimostrato che la sensazione di latte non è correlata a un rischio futuro di cancro al seno allora abbiamo terminato la lettura di tantissimi punti salienti che ci hanno parlato della crescita e dello sviluppo dell'essere umano in rapporto all'uso dei latticini abbiamo analizzato in particolare diverse cose Claudio ti chiedo un riassunto quindi sintetico pratico e utile per gli amici a casa abbiamo parlato di latticini e fratture osse diabete cancro patologie cardiovascolari allergie e intolleranze guarda io questa puntata a parte i commenti e le spiegazioni che faccio sulla ricerca voglio far parlare lo studio perché non voglio discussioni contestazioni facciamo leggere lo studio casomai vai a contestare la rivista scientifica più importante del mondo e poi ne parliamo conclusioni il latte vaccino include una complessa combinazione di macronutrienti micronutrienti e fattori di promozione della crescita che possono contribuire alla nutrizione umana tuttavia tutti questi nutrienti possono essere ottenuti da altre fonti tradotto non serve a niente come è avvenuto in molte società tradizionali con assunzioni storicamente basse di prodotti lattieri o caseari per gli adulti l'evidenza complessiva non supporta l'elevato consumo di latticina per la riduzione delle fratture che è stata una giustificazione primaria per le attuali raccomandazioni degli Stati Uniti in realtà vale per tutto il mondo inoltre il consumo totale di latticini non è stato chiaramente correlato al controllo del peso o ai rischi di diabete e malattie cardiovascolari è probabile che un elevato consumo di latticini aumenti il rischio di cancro alla prostata e possibilmente di cancro all'endometrio ma riduca il rischio di cancro al color retto è importante notare che gli effetti sulla salute riportati dei prodotti lattieri o caseari dipendono fortemente dagli alimenti o dalle bevande specifici con cui non vengono confrontati per molti risultati i latticini si confrontano favorvolmente con la carne rossa lavorata o le bevande zuccherate ma meno favorvolmente con le fonti di proteine vegetali come le noci inoltre non è stato stabilito alcun chiaro vantaggio del consumo di latticini al ridotto contenuto di grasso rispetto ai prodotti lattieri o caseari interi niente non è stato stabilito niente nel caso fa male queste sono le conclusioni dello studio a nostro avviso l'attuale raccomandazione di aumentare notevolmente il consumo di latticini a tre o più porzioni al giorno non sembra essere giustificata l'assunzione ottimale di latte per una singola persona dipenderà dalla qualità generale della dieta se la qualità della dieta è bassa specialmente per i bambini in ambienti di basso reddito i latticini possono migliorare la nutrizione mentre se la qualità della dieta è alta è improbabile che un maggior apporto fornisca benefici sostanziali e sono possibili danni quando il consumo di latte è basso i due nutrienti di prima importanza calcio e vitamina D che è di particolare preoccupazione alle latitudini più elevate può essere ottenuto da altri elementi integratori senza le potenziali conseguenze negativi dei latticini bene se hai concluso ti chiedo possiamo considerare definitivo questo articolo tutto ciò questo passerà in cavalleria come tutti gli altri studi che distruggono e ne guida negli ultimi 50-60 anni quindi il consumo di latticini nel mondo secondo te anche grazie a questo articolo non verrà soppiantato nella maniera più assoluta no perché a parte che questo è l'articolo che è stato pubblicato che abbiamo detto a marzo ma io mi sono letto anche tutti i commenti dei colleghi e l'hanno massacrato a questo qua è stato ucciso ho detto ma come ti permetti perché il latte cioè nemmeno di fronte alla realtà si sono arresi ma bisogna pure una cosa che nessuno qui vuole far chiudere le industrie del latte nessuno vuole far chiudere le industrie dello yogurt non ci penso nemmeno a questo qua io quello che dico che ci hanno consigliato il latte per le ossa e le ossa si frattono di più ci hanno consigliato il latte che fa dimagrire e il latte non fa dimagrire ci hanno detto che il latte protegge dai tumori e i tumori li fa venire ora questo è chi sente questa trasmissione deve essere libera scelta non farà fallire nessuna industria perché tanto anche se tu la metti questa trasmissione ne so il Ray Mediaset comunque la gente fa finta di non sentire perché a me ah ma che me ne frega a me me la mangio mi piace il mascarpone mi piace la mozzarella di bufala il latte lo bevo e non mi è mai successo niente finché ci sarà questa gente le industrie non falliranno mai mai perché il concetto loro puntano proprio su questo loro tanto non ci abbiamo la migliore latte del mondo sempre sta cosa tutto il migliore latte del mondo e poi ti ammali e ovviamente la malattia non viene mai ricollegata a quello che ho mangiato prima quindi secondo te non esistono eccezioni nella regola di non assumere i latticini io cosa ci consigli chi mi segue lo sa latticini zero zero carbonella come si dice qua e a Roma l'unico che è ammesso ma semplicemente perché soltanto il grasso del latte e non ha né né le proteine del latte né il lattosio è il burro grass fed perché è ricco di vitamina D di K2 anche di vitamina A generalmente non dà problemi e quello si può utilizzare ma è l'unica eccezione l'unica alternativa ai latticini no è l'unica scelta di latticino che si può prendere non c'è l'alternativa ai latticini si può bere l'acqua di cocco il latte di mandorle il latte di soia non se ne parla nemmeno anche se abbiamo visto che paradossalmente il latte è anche peggio del latte di soia che è un legume che dà altri problemi benissimo allora grazie di questa puntata così ricca di contenuti scientifici intanto vi ricordiamo alcuni testi fondamentali Geo Paleodite mini guida e integratori di Claudio Tozzi Claudio vuoi ricordare la tua bibbia? si eccolo qua è la penso l'opera più completa che esista per quanto riguarda la dieta chetogenica eccola qui sono sei fascicoli per un totale di 530 pagine più eccolo qua i dvd sono 6 dvd eccolo sono 25 ore di lezione per chi vuole fare la paleo la paleo la ciotogenica e ricordiamoci che la chetogenica quella diciamo tradizione ha i latticini e non se ne parla proprio qui infatti faccio paleo la ciotogenica e i latticini li ho eliminati perché è un utolo che fa uno fa la chetogenica e poi i latticini di danneggio è veramente assurdo poi volevo ricordare il tuo dvd la scienza del natural bodybuilding e la rivista bimestrale le regole di Tozzi esattamente sì è una rivista anche questo lavoriamo ogni due mesi è probabilmente la cosa che mi sta stato più a fare guarda ti confesso è faticoso è faticoso perché devi preparare le bozze gli articoli controllare scegliere le foto è dura allora noi vi ringraziamo grazie di averci seguito vi ricordo di iscriverci a infochiocciola geopaleodiet.com l'appuntamento è alla prossima puntata grazie Claudio Tozzi ciao Francesca ciao ciao a tutti vuoi sapere di più sulla paleo chetogenica allora non puoi rinunciare a il potere dei chetoni dove nessun uomo è mai giunto prima la più grande opera sulla paleo chetogenica oltre 25 ore di video lezioni in 12 DVD 6 fascicoli 635 pagine il potere dei chetoni la più grande opera sulla paleo chetogenica per il controllo della fame e delle dipendenze da cibo per l'efficienza mentale e per la concentrazione ai massimi livelli per l'incremento esponenziale della salute il potere dei chetoni acquistalo su geopaleodietshop.com l'efficio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.